Ciao ragazze, bentornati a questo nuovo video oggi sono qui perché vi vorrei un attimino parlare, come avete potuto ben leggere dal titolo di alcuni fatti che concernono il mondo dell'ecobio premessa, io non sono laureata in cosmetologia non ho nessun tipo di riconoscimento ufficiale degli ingredienti, della conoscenza degli ingredienti eccetera eccetera però voglio poter dire la mia perché è dal 2009 che sono all'interno del mondo dell'ecobio che ho deciso di sposare quantomeno parzialmente la filosofia dell'ecobio e quindi credo di poter aggiungere qualcosa o comunque cercare di chiarire qualcosa che invece è sempre stato troppo insabbiato o comunque portato a galla da persone che non hanno le effettive competenze per farlo non starò qui a fare nomi però la premessa principale di questo video è la seguente in qualsiasi caso, per qualsiasi cosa, in ogni ambito dovete sempre verificare la fonte delle vostre informazioni non dovete fidarvi semplicemente di quello che vi dicono non dovete fidarvi nemmeno di quello che vi dico io ma vi darò gli strumenti, le fonti per andare a cercare le informazioni che io vi do e quindi a verificarle allora, molto brevemente io mi sono avvicinata all'ecobio nel lontano, questo punto 2009 in estate perché stavo cercando dei solari che fossero biodegradabili perché mi ricordo che mi è venuta in mente una cosa abbastanza terribile ovvero quando io vado al mare e mi spalmo la crema solare addosso poi quando entro in acqua questa crema si dissolve in acqua e ovviamente immaginavo già che non fosse una cosa biodegradabile con questa ricerca, grazie a questa ricerca su Google sono prodata sul sito di Sai Cosa Ti Spalmi inizialmente c'era un sito diverso era un forum un po' più primordiale diciamo così e poi è arrivato alla forma attuale da lì sono arrivata a conoscenze anche del forum di Lola l'angolo di Lola che penso che sia molto molto famoso e di conseguenza anche di Promisland e del Biodizionario quindi diciamo che al tempo erano quattro i posti dove era possibile informarsi sui prodotti cosmetici sui ingredienti di questi prodotti cosmetici e degli effetti eccetera eccetera mi sono assolutamente tanto appassionata essendo io comunque abbastanza ambientalista ho sposato, vi dicevo appieno, la filosofia ecubio e tuttora lo faccio ovviamente con delle limitazioni che possono essere di tipo economico quindi ovviamente non tutti possiamo permetterci di spendere in un unico momento così tanti soldi ma anche per semplice fatto che tante cose sono reperibili online e non ho per forza tutto il tempo e i soldi di fare un ordine online e sono tutta una serie di cose per le quali io comunque credo profondamente nella filosofia dell'ecobio come qualcosa che non nuoce a noi ma in primis al pianeta sono stata spinta a fare questo video perché ultimamente girando per i profili Instagram, per Youtube, per i blog i blog un po' meno, sono un po' più informati, vi dico la verità però in generale Youtube e Instagram vedo delle cose che non mi piacciono che non mi piacciono e che temo seriamente che possano fare diventare l'ecobio una cosa da fissati talebani una cosa di cui un giorno la gente si stuferà quindi una semplice moda o che finisca semplicemente a taraluci e vino perché si danno per corrette delle informazioni che sono date alla Carlona è un modo di dire, non è una illusione quindi io vorrei un attimino chiarire delle terminologie anche perché questo quesito dell'acchiarimento della terminologia era stato posto anche da Clio, Clio Makeup in un video e io sotto ho risposto allora bisogna fare una differenziazione tra quelli che sono i termini utilizzati per parlare di ecobio normalmente per parlare di prodotti non comuni che stanno più attenti agli ingredienti si indica in modo generale la dicitura prodotto naturale questa dicitura non vuol dire assolutamente niente non vuol dire che sia ecologico non vuol dire che sia biologico non vuol dire che non sia testato su animali non vuol dire assolutamente niente è un termine convenzionale che per la mia modesta opinione sarebbe meglio utilizzare soltanto se si è prima consapevoli delle cose che vi dirò tra 5 minuti comunque vi sto dicendo la prima distinzione è tra cosmetico naturale e cosmetico chimico o almeno una delle cose che leggo di più è io non uso prodotti chimici questa è una grandissima bagianata perché quando tu compri uno shampoo antiforfora al rosmarino non è che tu apri la bottiglia e dentro c'è un ramo di rosmarino e te lo passi in testa e ti lavi i capelli ovviamente c'è un procedimento chimico che fa sì che tutti questi ingredienti i tensioattivi eccetera 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 più il rosmarino sintetizzato vadano a formare il tuo shampoo quindi affermare che tu tu, non tu però in generale affermare che non si usano prodotti chimici è una grande cavolata perché la chimica non è nemica della natura la chimica è presente anche in natura quindi già chi mi fa una distinzione del genere io già lo escludo dalle persone a cui io posso credere se mi parlano di ecobio perché secondo me il resto pare non ha capito niente poi andiamo a parlare a questo punto dei prodotti cosiddetti naturali allora l'ecobio come distinzione originaria nasce dalla unione di due parole ecologico e biologico ecologico significa ovviamente che non va ad inquinare quindi ovviamente non ci sono delle sostanze che vanno a inquinare sono biodegradabili eccetera eccetera o comunque ecologico può essere inteso anche come una sostanza che ha un basso impatto ambientale mentre bio, biologico significa che gli ingredienti di origine naturale utilizzati per la produzione di tale cosmetico non sono stati trattati con pesticidi eccetera eccetera significa questo biologico questa distinzione di concetto ha delle implicazioni prima di tutto che non è detto che un prodotto biologico sia anche un prodotto ecologico per questo motivo ci sono delle linee di marche molto famose anche del supermercato che vantano la dicitura bio perché magari effettivamente i prodotti naturali all'interno sono stati coltivati sono stati cresciuti senza andare ad utilizzare pesticidi e tutto quello che ci va dietro quindi la dicitura bio significa questo mentre ecologico è un prodotto che magari non so, non presenta neanche un estratto naturale però ha degli ingredienti che sono compatibili vi dico la verità, questo video mi è stato mosso soprattutto da un'uscita recentissima un paio di giorni fa che ha fatto Neve Cosmetics Neve Cosmetics ha fatto uscire il bio primer io non avevo sinceramente alcuna intenzione di testare questo bio primer perché non utilizzo primer però ero molto curiosa di vedere l'inci anche perché da un nome bio primer ti aspetti certe cose e così come ogni volta mi sono affidata a Sai Cosa Ti Spalmi perché attualmente secondo me è l'unico discorso serio l'unico percorso serio l'unica fonte seria oltre a quelli che vi ho citato prima presente sul web e Barbara, l'eccezionale Barbara ha scritto una cosa molto importante il nome di questo primer è soltanto una operazione di marketing e lì ti allarmi un attimino perché soprattutto per molte di voi Neve Cosmetics è una delle motivazioni per cui tante si sono avvicinate all'ecobio e Barbara appunto dice che all'interno del primer non ci sono ingredienti biologici questo cosa significa? che Neve Cosmetics avrebbe potuto scrivere natural primer, eco primer, primer e basta però bio è una dicitura sbagliata perché all'interno vi ripeto non ci sono sostanze biologiche magari è ecologico ma quello è un altro paio di maniche e quindi questo mi ha fatto un po' arrabbiare perché Neve Cosmetics è una delle aziende nella quale tante credono e secondo me dovrebbe avere una sorta di responsabilità io capisco che magari adesso come adesso il termine bio sia utilizzato anche in modo diverso da quello che è il significato originale per comodità di identificazione ma è una cosa sbagliata, non è giusta questa cosa qua altro chiarimento ecobio non significa o comunque ecologico biologico non significa non testato sui animali per quanto riguarda il non testare sugli animali io ho una visione abbastanza particolare non sono pro test animale nell'ambito cosmetico ma ritengo che andare ad evitare un prodotto andare a comprare un prodotto perché non è testato sugli animali e poi quello stesso prodotto mi va ad inquinare perché non è ecologico e quindi uccido i pesci è la stessa cosa che andare a testare non state facendone più nemmeno quindi anche qua il concetto del test per gli animali è un concetto che andrebbe un attimino sviscerato ma non lo farò in questo video poi volevo un attimino parlare di quelli che sono i fondamenti della filosofia ecobio significa vivere secondo vivere una vita che possa avere l'impatto ambientale minore possibile molti potrebbero ribattere ma ascoltami tu parli tanto di ecobio però tu usi dei cosmetici che non sono naturali tu usi MAC come in un precedente video tu usi Deborah tu usi bla 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 voi avete perfettamente ragione ma dovete ricordarvi che il dischetto struccante che voi utilizzate finirà nel secco non riciclabile tanto che voi utilizzate dei prodotti naturali tanto che non lo facciate e se voi buttate i dischetti naturali con olio vegetale naturale con trucchi naturali dentro l'umido quindi in un rifiuto riciclabile state commettendo un errore a questo proposito vi vorrei dire un'altra cosa ancora gli oli vegetali non è corretto dire che siano propriamente ecologici possono essere biologici però se ci pensate un attimo perché non si può usare non si può buttare via l'olio da cucina nelle tubature perché l'olio quando va a contatto con l'acqua ovviamente crea un'emulsione l'olio è molto inquinante per l'acqua perché fa sì che crei una patina che non permette ai raggi solari all'ossigeno di andare in acqua nel momento in cui succede questo ovviamente la fauna marina la fauna e la flora marina non possono che morire quindi non buttate a proposito non buttate i vostri dischetti nell'umido buttateli nel secco non riciclabile quindi quella poi è una vostra scelta se volete utilizzare dei prodotti naturali o naturali sempre virgolettato o meno per la vostra pelle perché poi lì è una cosa che riguarda proprio la vostra epidermide vi dicevo la filosofia ecobio consiste nell'avere il minore impatto ambientale possibile quindi per logica non bisognerebbe truccarsi perché il trucco è una cosa che ha un impatto ecologico e in secondo luogo bisognerebbe smetterla di comprare 500.000 prodotti perché i prodotti sono confezionati nella plastica la plastica è un idrocarburo che inquina eccetera eccetera quindi dal punto di vista dell'ecologia se voi sposate la filosofia ecobio e poi vi riempite la casa dei prodotti state andando un po' contro questo precetto perché avere 5 shampoo diversi 6 bagnoschiuma 8 saponette eccetera eccetera non è una cosa ecologica quindi poi sta alla coscienza di ognuno alle tasche di ognuno eccetera eccetera decidere di sposare o meno questa tipologia di filosofia un'altra precisazione molto importante è quella della conoscenza dei ingredienti il pioniere diciamo così di questo mondo è stato sicuramente il biodizionario che grazie ai suoi pallini colorati ci ha fatto capire se un prodotto era più o meno naturale sempre virgolettato e una cosa molto importante che ci ha insegnato il forum l'angolo di Lola è stato quello della consapevolezza dell'utilizzo degli ingredienti in un mio vecchio video che ha un sacco di visualizzazioni io nomino come prodotto per aiutare la crescita dei capelli quindi per evitare di tagliarli un prodotto siliconico una ragazza mi ha risposto smettila di utilizzare quel prodotto perché piuttosto utilizza l'olio d'argan perché quello là sono siliconi e non fanno nulla ma io lo so benissimo ma è per quello che io ho consigliato un prodotto siliconico per le sole punte perché nel momento in cui uno sa la funzione dei singoli ingredienti perché si è informato può anche decidere di utilizzare in una certa maniera l'olio d'argan è un olio ottimo un olio nutritivo ma ricordiamoci che il capello è una materia morta quindi nel momento in cui io voglio farmi crescere i capelli ma ho fastidio vedendo le doppie punte ci metto uno zik di silicone questo ovviamente non è un discorso ecologico però è un discorso per chi invece vuole farsi crescere i capelli l'utilizzo delle sostanze la consapevolezza dell'utilizzo delle sostanze va sia anche che io non demonizzi completamente la paraffina liquida ma adesso mi direte tu sei pazza io chiudo il video no, non sto dicendo questo la paraffina è molto utilizzata in ambito cosmetico sia perché è molto economica e quindi giustamente è molto più facile diluire affogare una crema e i suoi principi attivi nella paraffina che è economica e soprattutto nella maggior parte dei casi analergica a differenza di molti prodotti naturali piuttosto che andare a comprare dei ingredienti naturali che sono ovviamente costosi nel momento in cui ad esempio io utilizzo dei burro cacao naturali come ne ho tanti e poi mi vado a comprare il baby lips forse voi direte ovviamente tu stai venendo meno alla tua filosofia anche perché il baby lips è a base di paraffina questa cosa è vera ma io proprio conoscendo la proprietà della paraffina vi dico che molti rossetti sono composti di paraffina io cercavo un rossetto sheer chiaro, rosato che ho anche sulle labbra in questo momento e il baby lips è questa cosa però a 2,99 euro in secondo luogo durante l'inverno voi potete andare a didattare per bene le labbra quanto volete però il freddo fa sì che si abbiano delle screpolature e delle rotture questo che cosa significa? che bisogna andare a creare una barriera nei casi più gravi per andare a proteggere le labbra quindi qual è la mia idea? idrato prima sotto con qualcosa che va a nutrire e a didattare e dopo creo una barriera per fare sì che il freddo non mi attacchi le labbra quindi per il mio modo di pensare sempre per l'equilibrio mio di cui vi parlavo prima il comprare l'acquistare baby lips non è un dramma anzi è una cosa che mi permetterà di non screpolarmi le labbra ragazze io vi ringrazio per avermi ascoltato so che forse alcune affermazioni che ho fatto sono cadute un po' come una bomba e so che molte di voi potrebbero non essere d'accordo con me però ancora io vi invito a verificare le vostre fonti perché rischiate che chi vi dice qualcosa sull'ambito della cosmetica lo faccia per sentito dire e si trasforma in un telefono senza fili che trapassa le informazioni in modo non corretto adesso io vi lascerò diversi link nell'info box tra cui quello del canale il mio primissimo canale youtube con all'interno dei video che parlavano dell'ecobio questo per dimostrarvi che io ci credo veramente che era una cosa che io curavo da anni poi quell'account l'ho perso per motivi di google ma io ci credo in quello che dico e sono consapevole di quello che dico ma vi lascerò vi ripeto ulteriormente tutte le fonti che vi servono detto questo se avete qualche domanda avete un chiarimento da fare non siete d'accordo con me mi volete correggere per qualcosa che ho detto di sbagliato voi scrivetemi scrivetemi un commento scrivetemi una mail però ci tengo veramente che non diventi una dittatura perché io non sono una cosmetologa e quindi se io parlo a voi lo faccio con la massima umiltà ma anche serietà cioè io la prendo molto su serio questa cosa perché non voglio che l'ecobio diventi un fuoco di paglia deve essere invece qualcosa che entra sempre di più nelle nostre vite e che ci permetta tra 50 anni di non lasciare il mondo ulteriormente sporco ai nostri figli i nipoti eccetera eccetera io vi lascio e se vi andrà ci vedremo al prossimo video ciao 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 ciao